Se vuoi che il bene trionfi sempre sul male, iscriviti al canale e prega per noi. Ciao amici di preghiera, sia lode e gloria al Signore Dio mio. La parrocchia di Cristo Re nel centro di Monterrey è un luogo sacro e rispettato, dove i fedeli vengono per trovare pace e per pregare. Ma questa pace è stata disturbata quando un ladro, Carlo Salonzo, è entrato nella chiesa con l'intenzione di rubare tutto ciò che poteva portare via. Il suo piano è stato sventato dalla statua di San Michele Arcangelo. Se credi in San Michele Arcangelo, iscriviti al canale adesso, che si erge imponente all'ingresso della chiesa. Mentre cercava di fuggire con il bottino, Alonzo è inciampato nella statua ed è caduto sulla spada dell'Arcangelo, perendosi gravemente al collo. Il suo corpo giaceva al suolo. E proprio in quel momento, tutti hanno assistito al divino miracolo. La statua di San Michele Arcangelo è rimasta in piedi a simboleggiare la forza e la protezione della divinità. Tutti, colti da paura e dallo sgomento, hanno chiesto immediatamente l'assistenza medica per il ladro, che ha lottato contro i paramedici per evitare di essere portato in ospedale, con il rischio di finire in carcere. Ma la misericordia di Dio è grande. Nonostante la sua resistenza, Alonzo è stato trasportato all'ospedale universitario dalle autorità locali. Una volta ripresosi, è stato consegnato alla procura della Repubblica per essere giudicato. La vicenda ha scosso la comunità locale e ha portato alla luce il profondo significato della frase latina incisa sulla facciata della Chiesa. Terribilis est, locus iste, hic domunus dei, est et porta, cioè li. Ovvero, questo è un luogo che incude rispetto. Questa è la casa di Dio ed è la porta del cielo. San Michele Arcangelo Il capo dell'esercito di Dio ha protetto la Chiesa e i suoi fedeli da chiunque osava violare la sacripleità del luogo. In un mondo in cui il rispetto per la fede e la religione sta diminuendo, questa vicenda ci ricorda l'importanza di preservare i valori e le traduzioni delle nostre comunità. La statua di San Michele Arcangelo rimane ancora oggi in piedi in tante Chiese a simboleggiare la forza e la protezione delle divinità che continuerà a vegliare sulla parrocchia di Cristo Re e sui suoi fedeli offrendo loro sicurezza e speranza. Se credi in San Michele Arcangelo e anche per te è un potrettore iscriviti al canale e metti like a questo video e lascia un commento con la tua testimonianza di fede. Ciao amici di Breghiera!